Ti va di venire con noi? Noi siamo quelli che ai sogni ci credono. Perché i sogni ti fanno vedere dove gli occhi non vedono e dove non si arriva se tieni i piedi per terra. Sei un sogno, tienilo stretto e credici, credici fino alle stelle. Pan di stelle, sogna, è buonissimo. Grazie a tutti.